Illusioni e allucinazioni di Roberta Mormando Mi chiamo Veronica e ho 38 anni. Sono alta 1,78 m, peso 59 kg, sono bionda e con gli occhi azzurri. Tutta eredità della mia nonna paterna, perché da quella materna mi è bastato ereditare il carattere, forte, caparbio, volitivo e abbastanza capriccioso. Difficilmente perdo la pazienza, ma se mi fanno incazzare prendo tutti a calci. Da bambina sognavo di fare la veterinaria sulla luna, quella cosa tonda che vedevo nel cielo e che mio padre mi aveva detto essere un pianeta, immaginando di curare strane creature a sei zampe o a due teste non ancora conosciute sulla terra. Per questo mi esercitavo fin da piccola con le due capre e le quattro galline di mia madre che scorrazzavano nello spiazzo davanti a casa. Casa. Un rudere faticente e isolato in prossimità del bosco, che riconoscevo come casa mia, non avendo mai visto altro con cui fare paragoni, almeno fino a sei anni, quando per forza o per fortuna cominciai a frequentare la scuola primaria a Gradishtea. Eravamo dodici bambini in tutto e non posso dire che le loro condizioni fossero migliori delle mie. Mio padre aveva costruito una piccola baracca che fungeva da legnaia e che io immaginavo fosse il mio ambulatorio. Ogni pomeriggio non c'era gallina a cui non steccassi una zampa, una capreta a cui non visitassi la gola, un coniglietto a cui non auscultassi il cuore, mentre per gli insetti che più mi facevano ribrezzo emettevo quasi sempre sentenze di morte. Quello mona che tanto amavo e che tanto poi odiato, per ragioni per cui potreste odiarlo anche voi, manteneva stento la sua famiglia. Lavorava un po' come taglialegna e un po' come contadino, prendendosi cura di terra ed altri. Perché di suo, dal suo orticello a ridosso del bosco, cosa poteva ricavare di buono? Mia madre acudiva le bestiole dedicandovi quasi più amore che alla sua stessa bambina, dato che oltre a me i figli non ne erano venuti. Forse questa è stata la tragedia più grande. Vivevamo in un regime in cui le famiglie con più di cinque bambini percepivano aiuti statali e le madri con più di dieci figli erano dichiarate madri ruine. Ricevevano una medaglia d'oro e un'automobile. Avevano il trasporto gratuito sui treni e altri bonus. In questo paese avere una figlia unica, che non solo non portava denaro dentro la miseria, ma aveva dalla sua pure un caratterino poco gestibile, rendeva la piscina stessa poco amabile e la madre addirittura detestabile perché ritenuta incapace di procreare. Sono nata il 26 gennaio 1973, il giorno del compleanno di Nicolai Ciausescu. Non ho mai avuto nulla da festeggiare perché il destino non poter riservarmi un periodo migliore per venire al mondo. La miseria era una condizione di tale normalità nella mia famiglia che non ci facevo quasi caso. La mia ricchezza era la mia testa, il mio mezzo principale, forse l'unico di evasione. Quanto più non possedevo stoffe delicate e pregiate con le quali potermi vestire, tanto più la mia mente elaborava l'immagine di una bella bimbetta, elegantemente vestita, che, dismessi i panni di veterinari in ambulatorio, si dedicava rassegnata al disbrigo delle faccende domestiche. Eppure mai avrei potuto immaginare che oltre al brutto sarebbe arrivato il peggio. All'orrore non c'è mai fine. La realtà supera spesso di gran lunga la fantasia e mai avrei pensato che un giorno avrei addirittura rimpianto quella mia infanzia di miseria. Nel 1983 avevo solo dieci anni. La maggior parte della produzione agricola e industriale del paese fu destinata all'esportazione, per rimborsare i debiti contratti da Ciaugesco con l'Occidente. Dovevano servire a finanziare i programmi di sviluppo economico, ma in realtà devastarono la situazione finanziaria del paese. La penuria nazionale trasformò la vita quotidiana in una lotta per la sopravvivenza. Il cibo razionato, la mancanza di riscaldamento, la carenza di benzina e le interruzioni di corrente divennero la regola. Nel 1983 avevo solo dieci anni. Sono stata venduta da mio padre per 600 lei, poco meno di 300.000 lire italiane dell'epoca. Mia madre mi svegliò in piena notte, mi lavò con cura e mi infilò addosso lo straccio migliore che possedessi. Mi pettinò i capelli con la spazzola e sistemò un pettinino d'osso fra le ciocche. Poi cacciò quello che rimaneva delle mie poche cose in uno zaino. Mi disse che quel giorno non sarei andata a scuola, che dovevo partire con un vecchio zio di mio padre. Mi avrebbe portato in un paese migliore, dove non avrei dovuto più preoccuparmi del cibo, dove avrei comunque studiato e avrei avuto finalmente un futuro. A dieci anni non si è proprio così completamente ingenui. E io di vecchi zii non avevo mai sentito parlare. Non ne conoscevo anche lontanamente l'esistenza. Quando la macchina nera venne a prendermi, c'erano già altre due bambine. Viaggiavano sul sedile posteriore e sembravano avere la mia età. La cosa mi sembrò di buon auspicio là per là, tant'è che salutai abbastanza frettolosamente i miei genitori, eccitata dall'idea di un posto migliore dove andare, convinta di poter cambiare idea un domani e di poter tornare indietro se non mi fossi trovata bene. Oggi rido ancora di quella bimbetta così ingenua. Rido, perché le lacrime le ho tutte, ma proprio tutte esaurite. Ho capito ben presto che il mio viaggio sarebbe stato di sola andata. Già, in quei 600 chilometri da Gradishtè a Timisoara ci fecero intendere, senza mezze misure, che sarebbe stato molto meglio per noi non parlare e non contraddire nessuno dei due uomini piazzati sul sedile anteriore. Una delle bambine aveva cominciato a piangere invocando la madre. Dopo un paio di minuti l'uomo che non guidava si era girato puntandole un dito contro. Stupida idiota, smettila di frignare! Immediatamente dopo partì un sonoro schiaffo, così violento che il rumore ancora lo ricordo, e anche il fiotto di sangue che uscì dal naso. Da quel momento nessuno di noi tre osò proferire parola o emettere un lamento. In quell'istante scoprì un nuovo stato d'animo, che mi avrebbe condizionato e accompagnato per il resto della mia vita. Il terrore. Arrivamo in Italia non so attraverso quale via. Il viaggio sarà durato dalle 12 alle 15 ore, forse meno, forse più. Avevo perso la cognizione del tempo, anche perché penso ci avessero drogato, per lasciarci in una specie di torbido limbo per tutta la durata del viaggio. Avevamo viaggiato in un tir, alcuni schiacciati dal peso delle merci sotto i bancali, altri pressati sul fondo del mezzo, dove c'era una finta parete che nascondeva un vano largo appena 20 centimetri. Saremo stati una trentina, età massima 15 anni. Qualcuno deve essere morto soffocato, non solo per la mancanza d'aria, ma anche per il puzzo tremendo del camion adibito al trasporto di mangimi per animali. Da quel momento in poi ricordo ogni singolo giorno, ogni singola ora, ogni singolo minuto e secondo della mia vita. Perché se è vero che la mente umana ricorre a meccanismi di rimozione per le cose terribili che non vuole ricordare, è altrettanto vero che alcune di queste non si possono dimenticare. Forse io ho voluto ricordare perché le cose dimenticate perdono di valore, ma non queste cose. Ho fatto la mendicante per un anno. Ogni mattina mi caricavano in un furgone bianco e mi lasciavano nella zona assegnatami, per poi riprendermi a sera inoltrata. Quindi anche per mangiare dovevo affidarmi a quanto riuscivo ad elemosinare. Mi dovevo pure impegnare perché, se quello che arrivavo era cimolare non era ritenuto sufficiente, la motivazione di impegnarmi di più il giorno successivo mi veniva infusa a suon di schiaffi. Sapevano che non avrei potuto scappare, non avrei saputo dove andare, ma soprattutto sapevano benissimo che mi avrebbero ritrovata. Questi uomini sono ovunque e la punizione poteva essere la vita stessa, per quanto valeva per loro la mia di vita. Sono ancora oggi una bella donna, me lo dicono in molti. Sono stata una bellissima ragazza, me lo dicevano quasi tutti i miei clienti. A undici anni ho avuto il ciclo e da allora mi buttarono su una strada a battere, non prima però di essere iniziata il sesso da ognuno dei miei guzzini. Il dolore dell'anima è peggio di qualsiasi dolore fisico, anzi, in un certo qual modo è come il più terribile dei dolori fisici. Come avere un fuoco dentro che ti brucia gli organi e le carni. Il primo ad andarsene però è il cuore, e tu diventi come una lattina di Coca-Cola vuota, basta un niente a schiacciarti e buttarti via. Ci sono voluti cinque lunghi anni per liberarmi. Se per proteggermi da un acquazzone non fossi entrato in una chiesa oggi sarei morta, o per le botte, o magari uccisa da qualche cliente particolarmente violento, o per mia stessa mano. Ma non pensate sia stata la fede a salvarmi, perché di fede non ne avevo più, in niente e nessuno. C'era una donna che faceva le pulizie fra i banchi. Quando mi vide entrare, completamente fradicia e tremante per il freddo, si offri subito di farmi asciugare in sagrestia. Io però sapevo di essere controllata, qualcuno sarebbe entrato ben presto per trascinarmi via di lì. L'unica cosa che feci fu quella di sedermi all'ultimo banco, in un cocciuto mutismo, in attesa. Quando poi mi resi conto che il tempo passava e nessuno entrava a riprendermi, nella mia testa cominciò a farsi largo la speranza che forse la pioggia aveva colta all'improvviso anche il mio protettore. Magari nel tentativo di ripararsi il più presto non aveva visto in quale direzione me ne fosse andata. Dopo due ore era ancora lì, seduta, e la donna ancora intenta a lucidare le statue. Accade in un attimo. Mi alzai, mi avvicinai, la chiamai. Signora! Poi svenni. Se non mi avessero tenuta nascosta, se non mi avessero protetta, ma soprattutto se non mi avessero fatto conoscere altre ragazze come me, che erano riuscite a liberarsi da questa schiavitù, non sarei mai riuscito a trovare la forza e il coraggio di sbarazzarmi di quel terrore cucito a pelle. Non sarei mai riuscita a parlare con qualcuno di tutto quello che mi era successo, dalla mattina in cui erano venuti a prendermi a casa di mio padre fino a quel momento. Poi si è scatenata la reazione contraria, di rivalse, di vendetta, affinché pagassero tutti. E se non sono diventata un'assassina, è stato solo per la riconoscenza verso quella fede che mi ha permesso di ritornare una donna libera. In compenso li ho mandati tutti in galera, perché di cose da dire ormai ne avevo tante. Sono passati più di vent'anni. La Romania di oggi non è più quella che ho lasciato ventotto anni fa, ma ho preferito rimanere in Italia e ho anche studiato, ho preso la licenza media. Ho la cittadinanza italiana, perché otto anni fa ho incontrato Raffaele, operaio metalmeccanico, con la passione delle moto. Ogni domenica mi porti in giro a scorazzà per campagne. Non abbiamo avuto figli, ma forse è meglio così. Perché se è già difficile essere genitori, immaginate come può esserlo per me, con l'esempio che ho avuto. E poi non si sa mai cosa mi riserverà il futuro. Ho però qualcun altro di cui prendermi cura, oltre a Raffaele. Si chiama Vincenzina, ha 83 anni. È diabetica, cardiopatica e non è del tutto autosufficiente a causa delle malattie. Soffre di una lieve demenza senile che la fa andare in catalessa ogni qualvolta si appoggia sulla poltrona, cioè la maggior parte del tempo, e le fa venire le allucinazioni che per fortuna sono di breve durata. Però spero che rimanga con noi ancora lungo. Oggi non saprei come vivere senza tutte le sue storie di creature fantastiche.